Tensione continua e si acuisce lo scontro a Taranto tra Arcelor Mittal e i sindacati metalmeccanici in merito alla gestione del personale dello stabilimento siderurgico. I coordinatori di fabbrica di FIM CISL, Vincenzo Laneve, FIOM Cigiella e Francesco Brigati e Wilma Gennaro Oliva hanno presentato un nuovo esposto all'Inps. FIM, FIOM e Wilma in merito alle modifiche apportate sull'organico tecnologico in maniera unilaterale da parte di Arcelor Mittal scrivono, segnalano all'ente previdenziale che a seguito della riduzione del personale si verifica di fatto una programmazione dello straordinario in presenza di cassa integrazione, dichiarano le sigle metalmeccaniche. Per i sindacati Arcelor Mittal ha introdotto la cassa integrazione per i lavoratori che attualmente lavorano presso impianti in marcia, effettuando 21 turni settimanali per garantire una continuità produttiva. Nello specifico, continuano, abbiamo riscontrato un ulteriore taglio degli organici tecnologici presso i reparti produzione Lamire 2 e Laminatoio a freddo che si aggiungono ad altri impianti dello stabilimento siderurgico. Così come denunciato nei mesi scorsi, stiamo constatando, aggiungono un aumento delle ore di straordinario in presenza dell'utilizzo dell'ammortizzatore sociale. Tale situazione, sottolineano FIM, FIOM e Wilma, si determina in quanto il lavoratore, definito rimpiazzo dal contratto di secondo livello del 1989, è collocato in cassa integrazione e di fatto è impossibilitato ad effettuare le dovute sostituzioni del lavoratore in malattia, ferie, legge 104 e congedi parentali, determinando un aumento dello straordinario non legato a fatti accidentali ma ad una programmazione dello stesso a seguito delle modifiche apportate dall'azienda. Infine, concludono le sigle metalmeccaniche, riscontriamo che tali scelte hanno prodotto una difficoltà per i lavoratori nell'utilizzo della pausa di refezione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.